Ciao ragazzi, oggi effettuerò la sostituzione della trasmissione completa della mia Honda Integra. Premesso che non sono un meccanico ma sono un semplice amatore, quando faccio questo genere di operazioni mi ci diverto e quindi ho pensato di filmare tutti i lavori e in pratica andrò a cambiare pignone, corona e catena della mia Honda Integra. Ho preso un kit da Carpimoto, il kit è composto da una catena Did VX2, corona di 41 denti quindi due denti in più dell'originale e pignone da 17 denti quindi l'originale. Per fare tutto il lavoro serviranno un po' di oggetti. Sicuramente il più importante è la chiave dinamometrica per andare a serrare correttamente i buloni e poi serviranno una serie di altre robette che poi durante il video vi commenterò passo dopo passo. La prima cosa che devo fare è togliere il carter del pignone perché devo allentare il pignone stesso. Mi servirà una chiave di 8 a tubo ovviamente quindi tolgo prima di tutto la vite di sopra e poi vado a togliere la vite che è subito sotto. Quindi posso procedere con la rimozione del carter del pignone. Forza un pochetto bisogna ruotarlo un po' ma alla fine viene via. Condizioni pietose e là c'è il pignone. A questo punto vado a tirare il freno a mano il più forte che riesco e utilizzando una chiave di 14 vado a svitare il pignone. Solo svitare. Era un po' duretto ma ce l'abbiamo fatta. A questo punto visto che mi dà un po' fastidio per tutte le operazioni che dovrò fare avanti vado a togliere completamente anche il parafango Givi. Facendo attenzione a non perdere le rondelline interne. Quindi vado a togliere anche velle dalla parte opposta quindi lato scarico. e posso quindi togliere il mio bel parafangone Givi. Il prossimo step praticamente comporta la rimozione della catena, la smagliatura della vecchia catena. Io ho preso questo kit, vi metto qualche link in descrizione, insieme al link a un video tutorial completo. Non vi farò vedere in dettaglio quello come si monta e praticamente i pezzi che servono. Vi faccio vedere direttamente l'operazione ma se qualcuno fosse interessato vi lascio in descrizione, un tutorial in inglese fatto veramente molto molto bene. Praticamente io devo rimuovere un rivetto di questi interni e per farlo utilizzo praticamente questa configurazione. con questo pin all'interno che praticamente fa pressione nel rivetto e lo va a rimuovere. Il pin è uscito tutto. Eccolo qua. Quindi la catena è smontata. Quindi a questo punto posso anche andare a toglierla. semplicemente tirandola, in questo modo qua, delicatamente. E questa è la vecchia catena. Non so se si vedono qua e là dei punti di ruggine. L'ho già ripulita tre volte completamente. Alla fine mi sono stufato. Prendeva la ruggine continuamente. Ho deciso di cambiare tutto. A questo punto posso andare a togliere completamente il pignone. Finisco quindi di svitare il dado. E tolgo il pignone. Il pignone che per la verità è ancora in buone condizioni. Arrivato a questo punto vado a togliere lo scarico. Perché devo togliere la pinza del freno e voglio lavorare comodo. Tanto non ho fretta. Mi serve una chiave di 12. E poi praticamente la rimozione dello scarico mi servirà anche per montare il collettore. Che vedrete in un altro video. Quindi tolgo questa sopra e poi vado ad alentare la 12 che è qua sotto. E quindi lo scarico. Peraltro piuttosto leggero me lo tolgo dalle scatole. Adesso vado a rimuovere la pinza del freno e la pinza sotto di stazionamento. Perché praticamente per rimuovere la ruota mi rompono un po' le scatole. Quindi per fare le cose con calma e per venire vado a togliere anche le due pinze. Serve una 14. E poi serve una 12 per togliere questa qua. Quindi la pinza del freno è allentata in questo momento. A questo punto vado a togliere il freno di stazionamento. Serve una 12 qui. Avevo lasciato il freno a mano tirato quindi non veniva via. Arrivato a questo punto il momento di togliere la ruota posteriore. Mi scivorrà una chiave di 28. I guanti che mi ero dimenticato. Tolgo il dado. Tolgo la riparella. Tolgo il distanziale. Quindi per pura comodità personale vado a mettere una tavoletta a spessore sotto la gomma. Mi può aiutare nell'operazione. Sfilo tutto il perno. Ecco il perno. Di qua lo lascio così. Non serve che vada oltre. E quindi delicatamente sfilo la gomma. Faccio attenzione a non perdere i due distanziali che vado a rimettere ognuno rispettivamente dalla propria parte. E tolgo la mia gomma. Questa corona che vedete non è la corona originale. È già una corona di 41. L'ho provata perché prima di ordinare tutto il kit completo volevo capire se la 41 faceva il caso mio. Perché di sé rimonta una 39. E io diciamo volevo accorciare un attimino i rapporti dell'integra. Quindi questa corona che praticamente ha fatto pochissimi chilometri la conserverò e eventualmente se mi fa comodo la riutilizzerò in futuro. Serve una 19. Vado a togliere i 5 buloni. 5 buloni. Tolgo la vecchia corona. A questo punto posso montare la nuova corona di colore nero come vedete. Con le scritte rivolte verso l'esterno. In questo modo qua. Nel frattempo i buloni li ho puliti con petrolio lampante perché erano condizioni veramente pietose. Petrolio lampante, pennellino e poi asciugati. Niente di che. Do una serrata preliminare. Dopodiché prendiamo la dinamometrica. A questo punto prendo la mia chiave dinamometrica. E serro questi 5 buloni a 108 Nm di coppia. Quindi tanta roba. Vediamo un po' quello che viene fuori. Ok. A questo punto dopo un po' di fatica sono riuscito a tirare questi 5 dadi a 108 Nm. E adesso prima di rimontare la ruota ne approfitto per pulire il forcellone. Utilizzerò del petrolio bianco. Petrolio lampante o me lo volete chiamare. Pulirò tutta questa zona di sotto. La zona pignone. E anche il carter del pignone. Dopo aver pulito il forcellone e la zona pignone. Rimonto la ruota posteriore. Poi andiamo avanti con la catena. Vado a mettere i distanziali. Uno per parte. Quindi vado a inserire il perno con i due distanziali. Avendo premura di tenere i distanziali rivolti verso l'alto. Se non vi ricordate il verso guardate sempre questo segno che rimane. Perché è quello dove praticamente va a battere il registro. A questo punto semplicemente accosto il dado senza fare altro. E vado a rimontare intanto la pinza del freno e del freno di stazionamento. Vado a rimontare la pinza del freno. Bisogna alzarla e poi buttarla in dentro. Altrimenti ci si diventa scemi. Quindi vado a serrare a 22 Nm entrambi i bulloni superiori. Ok uno. Ok due. Allo stesso modo vado a rimontare la pasticca del freno di stazionamento. Infine tiro anche quelle del freno di stazionamento, quella dinomometrica. E il manuale parla di 31 Nm. Fatto. A questo punto posso montare il nuovo pignone. Anche in questo caso scritte rivolte verso l'alto. Ok e ci rimetto il suo bullone ma chiaramente non lo posso stringere. Lo stringerò come ultima cosa questo. Anche in questo caso con la chiave dinamometrica. Per ora lo accosto e basta. Siamo arrivati al momento più difficile. Ossia il montaggio della nuova catena. Quindi la catena è questa. Adesso la vado ad infilare nella sua sede. E poi dopo faremo la giunzione. La catena mi sembra abbastanza lunga. E' una 114 maglie. Danno questa per questo kit qua. Ma comunque torna perché avendo montato la 41 di serie. Avevo allentato un po' i registri. Quindi direi che si va bene così. 114 maglie. Dopo aver agito un po' sui registri. Come vedete ci siamo spostati ancora ampiamente dentro il margine di regolazione che abbiamo. La catena è praticamente tirata come dovrebbe essere tirata. Dopo comunque la controlliamo per bene. E quindi a questo punto devo andare a lavorare qua. Devo andare a mettere la maglia di chiusura. Nel kit della catena di The VX2 c'è una serie di cose. Maglia di chiusura con rivetti da ribattere. O-ring. E grasso. La prima cosa da fare è mettere un pochino di grasso nei due pin. Io faccio senza guanti perché voglio la massima sensibilità. Tanto le mani poi dopo me le lavo. Non è un problema. E in questo caso il rischio di farsi male non ce ne sono. Quindi prendete due o-ring. Le o-ring non hanno verso. Sono simmetriche. Quindi la mettiamo così. E la mettiamo così. A questo punto dietro c'è una scritta. Abbiate la premura di seguire lo stesso orientamento delle maglie che ci sono nel lato opposto. Dopodiché vado ad inserire se ci riesco la maglia nella sua sede. Così. In questo modo qua. A questo punto io gli do un altro goccino di grasso. Se necessario io posso fare anche di questo. Non me lo vieta a nessuno. Posso buttarlo un po' dentro. Tanto il grasso è ben dato in dotazione è comunque abbondante. Quindi potete stare tranquilli. Ok. In questo modo qua. Quindi vado a mettere le altre due o-ring di fronte. Ok. E quindi posso andare a mettere davanti la maglia di blocco. Questa fase che viene ora è molto importante. Bisogna farla in modo accurato. E per questo io ho un calibro. Come vedete l'ho preso digitale perché almeno non sbaglio. 16,7. Quindi prenderò ancora una volta questo attrezzino qui che avete visto prima. Lo vado a montare in questo modo con questi due piattelli. Questo che va dalla parte opposta. E questo aperto che praticamente va dalla parte di questa maglia qua. E la prima cosa che devo fare è che devo inserire in sede la maglia. Quindi all'inizio tenderà a ruotarmi un po' a vuoto. È normale. Ma praticamente come vedete mi ritrovo al punto che la maglia praticamente è arrivata al pari con i due rivetti. Quindi adesso dovrò continuare a spingere finché non arrivo praticamente a 16,7 di distanza. Lo misurerò passo passo con il calibro. In sostanza si tratta di tirare un attimino leggermente così e poi prendere il nostro calibro e andare a misurare 16,45. L'ho stretta un pelino di più ma non credo che sia un grosso problema. Arrivati a questo punto praticamente arriva la parte finale. Quindi devo tirare i rivetti e per farlo utilizzerò questo attrezzo qui. Sempre in dotazione con questo affare. In pratica com'è che funziona? Beh semplicemente fa acchiappare il tondino nel mezzo e lo espande. Io per controllare di quanto lo espanderà vado a misurarlo 5,10, 5,12 circa. Ce lo vado ad appoggiare sopra in questo modo qua e poi praticamente lo devo stringere fino a che quest'area qui che vedete in mezzo non sparisce. Poi lo sentite anche dalla corsa che fa l'oggetto. A un certo punto smette di avanzare, proprio diventa molto più duro quindi non ha senso forzare oltre. Vado a controllare di quanto si è espanso. 5,22. Adesso faccio anche il secondo. Ok. Quindi vado a vedere a che punto sono arrivato anche di qua. 5,23 direi che va benissimo. Controllate sempre dopo aver fatto tutto che le ringhe dentro siano diciamo mobili. Che si possano muovere. Se le piegate con cacciavite senza tagliarle ovviamente. Perché se avete stretto troppo e l'avete come si dice schiacciate poi dopo può succedere che non fanno più il loro mestiere di trattenere il grasso all'interno e quindi potrebbe iniziare ad arrugginirvi si la catena. Se dovesse accadere ricomprate una maglia di chiusura e la ricambiate. A questo punto devo registrare la catena e da manuale, dal libretto, devo considerare che la catena non faccia un gioco verticale all'incirca in questo punto qua superiore a 35 mm. Quindi compreso tra i 25 e i 35. Per misurarlo cosa faccio? Metto un metro appoggiato sopra. Vedo dove arriva la catena. 55 in questo caso. Tiro su. Va a meno di 15. Quindi siamo ben oltre il limite massimo ammesso. Quindi attraverso i registri delle ruote andrò praticamente a regolare il tensionamento della catena. Avendo la premura di fare in modo che praticamente i due registri siano equidistanti. Quindi alla solita distanza. Posso farlo aiutandomi con queste tacchette che ci sono qua sotto oppure posso utilizzare anche un calveo. Andando a prendere la distanza che c'è tra qui e qui o tra qui e qui. Non è che cambia poi molto. A questo punto dopo aver regolato la catena in modo che avesse un gioco di circa 32 mm. Sono stato piuttosto alto. Poi la controllerò più avanti dopo aver fatto qualche chilometro. Vado a serare la ruota. Io faccio così. Metto questo qua sotto leggermente tirato. In modo che mi tiene la ruota tesa mentre stringo. Stringo quello che posso a mano. Poi dopo servirà la dinamometrica. Va tirata a 98 Nm. Fatto. Per concludere il lavoro di serraggio della ruota metto leggermente in tensione il registro inferiore. Quello con la 10. E poi vado a stringere praticamente il fermo dietro. Non serve tirarli molto forti. L'importante è che non si allentino con il tempo. Lo faccio di qua e lo faccio di là ovviamente. A questo punto rimetto in tensione il mio freno a mano. E vado a serrare il pignone con la chiave dinamometrica a 54 Nm. Perfetto. A questo punto senza rimontare il carter del pignone. Accendo l'integra. La metto in prima. E guardo come si muove la catena nel complesso. A questo punto dopo aver fatto questa verifica posso procedere con il rimontaggio del carter pignone. L'ho un po' ripulito il battente ma niente di più. Dentro se volete potete starci anche delle ore a pulirlo. A me sinceramente non interessa granché. Il passaggio è un po' stretto ma alla fine comunque ci si riesce. Quindi prima di tutto vado a mettere quella sotto. Ma non la stringo completamente. E poi stringo quella di sopra. Io uso cacciavite ma chiaramente con una chiave a cricchetto fate un lavoro migliore. A questo punto dopo aver rimontato il parafango dovrei per concludere il lavoro rimontare anche lo scarico. Ma non lo rimonto perché ora andrò a montare il collettore decatalizzato. Ma lo vedrete in un altro video sempre nel mio canale. Spero che non vi siate annoiati durante questo video. Scusatemi per la voce ma sono stato raffreddato tutta la settimana. Ribadisco che non sono un meccanico quindi mi rendo conto di non aver fatto tutto in modo certosino. Ma comunque con calma entro le due ore. Dipeto con calma si riesce a fare il tutto. Il kit io l'ho preso da Carpi Moto non mi ricordo se ve l'avevo già detto. L'ho pagato 110 euro catena con una pignone. Sempre da allora ho preso il correttore di velocità che vedrete montato in un altro video sempre nel mio canale. E poi il kit per rivettare la catena. Quindi detto questo ciao a tutti e alla prossima. Grazie a tutti.